avevo capito il crudino il crudino non mi piace ma Mirko si almeno no a me no ah l'avevi bevuto l'altra volta è giusto che tipo no no non ho mai bevuto un crudino nella mia vita no è vero zì questa cosa non è vera mai ma zì io non ho mai bevuto un crudino compa allora ho l'ho sognato compa è probabile ok ok però è grave che non lo ricordi quando però è grave se ricordo il sogno che tu bevi un video come se fosse realtà ah pure l'altra volta mi hai chiamato mi hai chiamato ah no quella volta e allora vogliamo raccontare questo fatto ci siamo sentiti due minuti fa non è vero sì mi hai appena chiamato è stato il tuo cervello è stato questo è stato il tuo cervello no è stato bello perché poi la cosa è bella è che non è che ti ho risposto incassato perché era mattina tipo alle 7 e mezza di mattina ma tu ci ho sentito due minuti fa tu hai detto no io sì e tu continuami no no effettivamente allora raccontiamo la storia prima di iniziare con Jack and Dexter ok basta però l'hai raccontata vabbè sì però in modo un po' a de cazzo grazie a tutti Grazie a tutti.